Partita la seconda gara in Gara in posto, quella riservata alle categorie Oggi siamo qui con voi a rappresentare il comitato provinciale per essere sempre vicino alla nostra passione Prego presidente Allora io devo dare merito a chi ho organizzato, alla Damaia Running perché questo è un ottimo percorso Mi pare ben strutturato, ben studiato Ragion per cui ne parlo Ragazzi vi ricordo che sono tre giri, tre giri e sei chilometri Ed è partita la penultima competizione, quella riservata alle categorie 50 e 55 E poi alla fine, l'ultima fase è il prodotto Correre i ragazzini più giovani San Severo per il campionato regionale e individuale di società maschile e femminile di Corsa Campestre E in fase di esecuzione la gara riservata alle categorie 50 e 55 Per i sei chilometri e ci saranno tre giri e vedo già i colori da Oia Running qua Fare da ritmo, seguire il ritmo a fare la parte strada per le due categorie Luigi ci sei anche tu ciao Luigi ci chiamiamo così grazie ancora